Andrea aveva mille idee per la testa, faceva delle cose pazzesche, una volta è arrivato qua e ha trasformato un poster mettendo tutte le teste di altri giocatori, faceva delle cose straordinarie, scherzi, si era cimentato una volta un poster di tiro in un 400, eravamo tutti a bordo pista a fare questo regolo facendo il tifo per lui. Era un ragazzo che amava e sapeva stare insieme agli altri davvero bene, al di là delle sue capacità tecniche di portiere che l'hanno portato a ottenere grandi successi con noi e poi l'hanno portato ad allenare i ragazzi della nazionale, noi perdiamo sicuramente un grande amico, una bella persona e siamo tutti molto vicini alla famiglia. Grazie Grazie